Cacca che questa zona qua è molto contesa comunque c'è il boss con l'arma più forte di tutte Eh sì lo scar mamma mia anche quello di Peter Griffin in build ti giuro è pienissimo Arrivo da te sto correndo proprio Ho uno scudino per te Eccolo Grazie da noi c'è gente no 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 è il bot infatti inizia a farlo Sì comunque hanno cambiato l'olio per forza Prendi prendi Martina prendi prendi Ma è il bot eh è il bot di Chris Ti giuro sembrava un player per come m'ha laserato No 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 Questo player Questo è un player E colpi pompa? Eh no 3 proprio in più così Io un impulso in caso eh No ma stanno facendo il giro Ah sì fate giro fate giro uno Arco c'è mi ha distrutto Mattè Guardi vattene vattene con l'impulso fidate Vattene 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 fidate 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 Ah impulso verso ovest e ti guardo Vai 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 Ragazzi io Ma non è vero io non è vero Comunque allora lagga Distrutto distrutto proprio 3 5 Martina Bravissimo Battuto Martina Godo Vado a prendere l'alto allora Mi hanno cerchionato Ok Martina altri Tutto ok tutto ok tutto ok Uh Martina eh lo so Eh questo è un altro team Sono ok sono ok Va bene tranquilla 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 Aspetto un attimo che questo qua vuole busciarmi Quella che ho visto vai 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 tu c'hai tutto il tempo del mondo Ma che cazzo Questo che salta ha fatto Ma figurati Perché dovrebbe accadere dai Io per ammazzare uno ho fatto veramente una cosa figa cioè cicchinata e poi l'ho ucciso Eh l'ho visto Quello che mi ucciso ho fatto la stessa identica cosa con me Tipo il karma quindi Sì sì no no sì 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 Che poi Potremmo avere il bunker noi Non per ridere per scherzare Sì Fasi quasi così ti fulli tutto Aspetta c'è una base che c'è c'è un cecchino Allora ok Arriva l'altro team di lì con la zipline sì c'è il cecchino ma di giro su dio il mirino sulla fascia del pianeta terra cioè il non mirino bravissimo morto un altro sento comunque fortemente troppo silenzioso guarda qua sotto al 156 martin dove sta la corona per intenderci sì 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 è pieno di loot e loro non li vedo lancio questo mirco un big qualcosa che non mi non mi guadra ma non è cosa col mixer strano stasera no 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 po por gioco alla fine sarà vabbè bello questo lo sai dobbiamo capire bene però che cosa portarci perché lo scudo secondo mens code è forte per nei momenti in cui era in testa nella me un cadri sicuramente sono sì per forza c'è da capire se ci saranno l'impulso è questo da capire perché se non sono l'impulso il rampino è praticamente perché è un must ci hanno rubato la cash sono lì sopra guarda che tipo eccecchina bide verso l'albero non lo vedo ora si è messo dietro si è messo dietro è vicino a altra prima potenza di becca per la capa per la capa morto c'ha medaglione lo prendo io ma sì 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 facciamo una testa e ci sta il pompa di peter griffin però michael tattico sono mai sempre più forte a me non piace a me non piace vuoi questo bravo c'è un medic sotto occhio a destra cecchino è sì 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 e vaffan... queste cose ma allontano un attimo non accato non accato non accato non accato non accato ok ritornate tanto l'amico è distante ti lascio un medici tettini che divisione sei in no build e mi sa tipo argento ecco perché le lobby sono un po tranquille sono quasi diamante è però c'è conta comunque la lobby in diamante c'è conterà anche più alto io non so effettivamente quanti giocano le anche di no build sai no no giocano giocano si stanno delle partite in singolo che ti giro su dio martino tu impazziresti c'è ma la gente gira quelle macchine in auto in end game tu non puoi capire quello che fanno e per quello che ti dico bisogna fare attenzione hai no build proprio non le ho proprio toccate a me piace un botto io le ho giocate tantissimo tipo quando sono uscita nel capitolo 3 vero se ne erro mi pare di sì lì l'ho giocato un veramente un bordello mi divertivano più delle delle build c'è davanti a noi 34 hai visto e quelli lì sono belli belli alti ma un mocio lavoro però il cettino non ce l'hanno perché per non piccare manco una volta no ma non mi sembrano neanche così forte così è tanto tu in caso è l'impulso ok io rampino invece quindi se in caso vogliamo salire io posso salire si saliamo un pochettino perché non mi sembrano fortissimi perché non hanno neanche provato a spararmi infatti in sanissimo ma secondo me se ne sono andati e guada controllo di rampino allora in caso scendo ah no ma ti dico conosco i polli questi sono andati infatti non ce ne passi no invece sono qua camperati sti stronti maschetto no ci sto ci sto con te vabbè erano scemi comunque sì sì ma erano qua detto fermi sto box in metallo tipo ho detto erano scemi allora questo sopiamo ce l'ho scarviola se ti serve vuoi ce l'ho anch'io questo però quello mio era bello potenziato questo blu è ma c'è quello mitico lo vuoi tu quello mitico no 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 allora questo lo prendi tranquilla come partito buon uso la vedo tranquilla forse sarà che mi sento al sicuro con te nel senso che sai sto giocando con martina se cosciamo da un sacco di tempo sei brava quindi gioco tranquillo invece quando gioco da solo porco zio stai da solo dici da qua 295 ok sì sì l'ho visto sta super attento ok non lo vedo uno nel cespuglio è uscito altro altro di me sul ponte sul ponte ok questo 116 bravissimo e c'è l'altro qua che c'è altro di me qua non è bella sotto di noi sotto di noi sotto di noi sotto di noi stanno proprio cucciati qua sotto non vorrei che i passi erano della casetta sai madonna ti giuro sì sì ti giuro ti giuro i passi sono allucinanti può essere lo sai sì sì no no mi sa che sono quelli della casetta vabbè volendo possiamo andare anche in zona se vogliamo direttamente assolutamente d'accordo con te perché ci sta un team camperato a 268 che ha preso una bella cecchinata e ci stanno quelli in casa quindi io sinceramente noi si filiamo in safe anche perché in zona si stanno pure sparando qua dietro e va per bella stiamo andiamo andiamo prima ti dico una partita molto sì molto chill molto prendiamo la macchina martin sì sì queste si useranno tantissimo un torneo se non le se non le bannano si infatti perché andiamo 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 adesso poco forti le macchina martina è pieno vado verso destra e di scendici di scendici di scendici di scendici di scendici quello che stanno fai dando martin dietro 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 fraccato morto 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 si sparano a destra qui adesso sono un po' tossici visto 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 mi fullo si stanno mirando col cecchino ok 66 coperto no faccio una cosa vado sul loot primario e prendo il cecchino provo a fare qualcosa col cecchino va tranquillo faccio così e faccio questo 116 martin bravissimo si si ma infatti ma fare molta attenzione 116 perfetto io devo rientrare che fa un danno si 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 ok se ti serve qualcosa non mi faccio solamente o ci guardano qua dietro noccato morto uscio l'altro morti e arrivano anche da lì da ovest basta che l'abbiamo preso uno che ci frega 116 bravissimo ci sparano quelli della montagna la montagna di guardano di guardano un po' troppo e stessi un po' troppo allora in teoria questi si spaccano questi sopra si spaccano se lo possiamo fare con rampino andare lì dietro non dovrebbero vederci forse ancora più avanti con rampino a buscino 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 mi fai chiedete noi morto bravissimo vieni con me qui a me vieni con me tranquilla praticamente quasi in zona mi cura fa male la zona dobbiamo entrare io sto dentro ok quelli qua sopra hai un medikit per caso mi eccolo qua dietro di noi bianco 30 andiamo 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 white ok manca quindi la duo vai vieni qua vieni qua vieni qua prendiamoci qua sopra occhio c'è un'i cecchini sono quelli col cecchino si si quelli di prima che rompono le p***e non li vedo minimamente ti giuro ma te lo giuro ti ho visto ok si si ho visto anch'io a destra uno distrutto quasi craccato 116 arriva Mirka battuto ha battuto tranquilla eccolo è nostro è nostro è nostro ti trovi qua ti trovi bravissimo mamma mia ma mia fortina ma mia fortina